Vi presento, benvenuto, il professor Mauro Minelli, di cosa parliamo con il professore? Parliamo di questa strana tendenza che onestamente è un po' indotta dai fatti bellici che stanno attanagliando le nostre anime. Il Covid è passato quasi un po' in secondo piano, anche nei Tg, dopo la lunga parentesi sull'Ucraina, quasi il fatto che si volti pagina e si comincia a parlare di Covid, lo vivevamo quasi con sollievo e non più con l'ansia con la quale vivevamo dopo. Stiamo un po', professore, sottovalutando il problema rispetto a quanto invece sottovalutare potremmo? Direi di sì, direi di sì perché sembra quasi che la notizia della pandemia si sia silenziata, si sia silenziata quasi da sola. e la cosa più strana è che si è silenziata da un giorno all'altro, improvvisamente abbiamo visto la scomparsa di questa notizia, che non va bene, non va bene per più ragioni, intanto perché non possiamo celebrare sicuramente la festa della liberazione dalla Covid-19 come prima cosa. E poi secondo perché in questo modo, scordandoci improvvisamente di una pandemia che è rimasta la notizia più notiziabile in assoluto per un arco complessivo di due anni, che ha stravolto le nostre vite, che ha modificato le nostre abitudini, che ha creato litigi anche non facilmente recuperabili tra persone no Covid o contro no Vax o piuttosto che no, ecco questa notizia che ha sconvolto le vite, voglio dire annullarla completamente, un po' è come dare ragione ai negazionisti, un po' è come dare ragione ai complottisti, a coloro i quali hanno sempre detto che la Covid-19 in fondo non era un problema, era un falso problema che scomparirà così come improvvisamente è comparso. Questo non è vero perché la pandemia non è scomparsa, perché il virus c'è, perché il virus si fa sentire e su questo probabilmente, sicuramente dando la giusta rilevanza a quella che è l'emergenza di questo momento, ma non possiamo soffermarci sulla Covid solo e soltanto andando a registrare quelli che sono i numeri della pandemia del giorno precedente e poi chiudere lì l'argomento, perché tra l'altro questi numeri stanno anche aumentando. Professore, intanto per quei pochi che non dovessero averla conosciuta in questi mesi, il professor Minelli, medico specialista in allergologia e immunologia clinica ed è professore straordinario di scienze dell'alimentazione e dietetica applicata. Cominciamo, poi ci allontaniamo e ci nazionalizziamo, però cominciamo dalla Puglia, che è in leggera ma sostanziale controtendenza rispetto al dato nazionale, cioè il calo che registriamo in Italia non è proporzionato a quello che invece non registriamo qui in Puglia, dove l'Omicron 2 tra l'altro sta prendendo un po' il sopravvento. Ma sì, diciamo che già tra sabato e ieri c'è stato un notevole incremento, questo sì a livello nazionale, l'altra regione credo che sia la Sardegna, che non sta allineandosi a quelli che sono i dati nazionali. Per questo dico, il problema appunto è quello di tenere sotto controllo questa situazione senza dimenticare che non possiamo improvvisamente ed immediatamente cancellare quelli che sono i criteri di protezione che abbiamo adottato, nostro malgrado. Cioè non è un Liberi Tutti il 31 marzo? Ma assolutamente no, ma questo, cioè, guardi, la cosa è questa, la Gran Bretagna piuttosto che i Paesi Bassi, credo la Norvegia, hanno annullato completamente con un colpo di spugna tutto ciò che c'era nel merito della protezione individuale. Non mi pare che questo sia un gran bel passaggio. Chiaro che tutti noi aspiriamo a questo Liberi Tutti, ma non siamo ancora Liberi Tutti. la pandemia sta ancora colpendo. Non è corretto che noi ci si astenga dal conservare quella precauzione individuale che dalla mascherina all'evitamento dell'assembramento comunque dovrebbe in qualche modo coinvolgerci. Ora, questo tipo di situazione, che in alcune regioni, la Puglia sicuramente sì, sta facendosi presente, deve tener conto che noi possiamo avere ancora a che fare con delle varianti, lei ha citato la Omicron 2, la Omicron 2 è una sottovariante della Omicron 1 che comunque si dice sottovariante perché ha delle caratteristiche, come dire, che la differenziano dalla prima. Ora, nei confronti della seconda, noi potremmo ancora, pur avendo avuto un contatto precedente con la prima, con la prima versione della Omicron, potremmo ancora essere, come dire, colpiti. Fortuna che la Omicron ha come caratteristica fondamentale quella di attecchire a livello di alte vie respiratorie, non raggiunge il tessuto polmonare, quindi si ferma in ragione di sue caratteristiche specifiche a livello di alte vie, quindi la stiamo un po' sottostimando in ragione di una minore severità del quadro clinico, ma questo non vuol dire che non ci sia e infatti i numeri ci danno ragione. Professore, io cerco di mettermi adesso nei pani di chiunque ci stia ascoltando e vorrei tanto accontentare le loro curiosità. La prima è abbastanza fisiologica, che io glielo chieda. Il vaccino ci protegge dall'Omicron 2? Sì, allora, protezione diretta rispetto all'Omicron 2, un vaccino che è stato creato per andare a neutralizzare varianti precedenti, protezione esclusiva, assoluta, no, non è possibile. Dagli effetti sì però? Dagli effetti sì? Dagli effetti assolutamente sì, ma se mi dice che è un vaccino diretto, orientato contro l'Omicron 2, sono costretto a dire no, ma che comunque possa determinare un'azione di stabilizzazione e di non severità del quadro clinico, questo lo dicono i numeri, i numeri che ci dicono che in realtà dai ricoveri ai ricoveri in terapie intensive non abbiamo più quei numeri spaventosi che avevamo esattamente un anno fa. Professore, facciamo un esempio, una media. Io credo che noi ci siamo fatti la terza dose ragazzi, dicembre? Giusto? Più o meno? Ecco, facciamo un esempio delle persone qui. A prescindere adesso dalle nuove varianti, per quanto tempo siamo coperti essendoci fatta la terza dose, diciamo a dicembre e gennaio? Diciamo che non ci sono delle numerazioni o delle indicazioni precise che ci diano dei numeri esatti sui tempi reali della persistenza dell'immunità acquisita con le tre dosi. Questo lo possiamo dire. Di fatto io ritengo, immagino e sono certo di questo, sono quasi disporci tutti a realizzare quello che chiameremo un nuovo richiamo, quello che chiameremo la quarta dose se volete. Ma comunque ritengo che sia pressoché indispensabile immaginare per quella data una nuova somministrazione che possa riattivare quelle difese immunitarie che gradualmente vanno a calare man mano che l'effetto del vaccino viene meno. E questo ci può anche stare perché alla fine potremmo immaginare per il nuovo coronavirus e per le sue varianti una vaccinazione che di anno in anno andremo a reiterare esattamente come facciamo per l'influenza ed esattamente con le stesse dinamiche perché il vaccino dell'influenza tiene conto di quello che è il ceppo dominante dell'influenza di quell'anno per cui avendo la capacità di predire in qualche modo o di prevedere o di valutare quelle che sono le varianti dominanti per l'anno in corso potremmo sicuramente costruire un vaccino che ci protegga rispetto alla variante dominante che dovesse venire fuori nei prossimi mesi. E comunque l'andamento che stiamo registrando anche con un eventuale rialzo in alcune zone del paese allarma voi tecnici come dire voi addetti ai lavori o possiamo considerarlo come il fisiologico andamento di una pandemia più o meno sotto controllo? Assolutamente sì la pandemia è sotto controllo. Tra l'altro dobbiamo anche dire questo che i soggetti contagiati, i tamponi positivi non sono gli ammalati. Quindi voglio dire non possiamo creare una condizione di allarmismo soltanto perché abbiamo notato tra sabato e oggi un cospicuo incremento dei casi di covid perché comunque si tratta di casi di covid che risultano essere soltanto positivi al tampone ma una criticità dei ricoveri assolutamente non si è verificata. Quindi questo ci fa capire quanto la vaccinazione realizzata per quanto non contro Omicron sia più che sufficiente a mantenerci un buon livello di protezione e questo tutto sommato ci consente di dire quello che lei diceva prima che l'effetto della pandemia, l'evento pandemico tutto sommato in questa fase è assolutamente sotto controllo. So che questa domanda che sto per farle se l'aspetta. Francesco Paolo Figliolo, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, ha fatto una dichiarazione che insomma rimane agli annali perché è nel libro Un Italiano, quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande a quattro mani diciamo con Peppe Severnini e a proposito degli immunologi, dei virologi che si sono avvicendati e spesso anche scontrati in televisione, lui dice testualmente che alcuni battibecchi tra voi sono stati qualcosa che forse sarebbe stato meglio risparmiarci, sono sue parole, dice anche che probabilmente questa improvvisa popolarità e notorietà vostra e del vostro settore può aver tirato fuori dei caratteri umani come è normale che sia in qualunque comunità, non sempre benefici per la vostra categoria. Qual è il suo pensiero? Intanto mi auguro che queste cose non le abbia dette Figliolo e le abbia scritte Severnini. Questo bisognerà andarlo a leggere sul libro, però sono sul libro. Per carità. Poi lui se l'è presa anche con i virologi, io sono un immunologo quindi ancora... Ah lei non si è sentito colpito? Mi sento a margine. Tuttavia dico questo che intanto rispetto molto il lavoro che ha fatto il generale Figliolo perché è stato un lavoro veramente esemplare e che si vede ha portato dei frutti. Devo dire tuttavia che questa battuta me la sarei risparmiata francamente. Specialmente perché poi detta in un libro... Me la sarei risparmiata perché non ha un grande senso ora andare a, come dire, a rivangare questo tipo di situazioni. Io mi rendo conto, mi ricordo esattamente due anni fa come in questo mese, quanta confusione regnava il test sierologico, il test rapido funziona, non funziona. Si era creata una grandissima confusione sull'argomento. Poi sono cominciate via via a venire delle indicazioni, delle informazioni, devo dire anche piuttosto competenti e quindi questo tipo di situazione non può non avere orientato un po' le persone a scegliere quella che poteva essere la pista più giusta. Per cui tutto sommato voglio dire un intervento, un intervento pubblico di rilievo, comunque da parte dei virologi, degli immunologi, dei medici comunque che sono intervenuti, c'è stato e ritengo sia stato positivo. La fermo su questo ciò che è, però non la perda, lo tenga a mente, ci fermiamo per la pubblicità e tra l'altro col professore affronteremo tra gli altri un argomento molto interessante che è a cuore, che il professore ha molto a cuore, cioè lo strascico possibile che un Covid possa lasciare tracce su di noi e sul cervello in particolar modo. Ci vediamo tra poco, pubblicità. Grazie professore, ci vediamo tra pochissimo. Bentornati a Pomeriggio Norba, siamo con il professor Mauro Minelli, medico specialista in allergologia e immunologia clinica, professore straordinario di scienze dell'alimentazione e dietetica applicata. Stavamo un attimo divagando o svagandoci, vedete un po' voi, sul ruolo dei virologi in tv e l'avevo interrotta, professore. No, no, io dicevo un completamento del pensiero di prima a proposito dell'esternazione di figliuolo che per certi versi probabilmente, come dire, sinergizzare i pensieri dei vari soggetti che sono intervenuti sarebbe stato più proficuo perché poi per alcuni versi le comunicazioni sono diventate persino ostili tra un virologo e l'altro. La qualcosa, devo dire, probabilmente non ha annuociuto un po' nell'equilibrio complessivo della comunicazione. E poi molto probabilmente questa cosa che per esempio non è appartenuta a persone come Alberto Mantovani o come altre persone di un certo livello nel settore dell'immunologia, diciamo si è scontrata anche con quelle che sono le attitudini esplicative del comunicatore che insomma a volte anche uscendo fuori da quelli che sono i canoni della comunicazione scientifica oggettiva e quindi entrando all'interno di talk show che poco potevano avere a che fare con il discorso dell'informazione clinica e scientifica in quanto tale, insomma ha creato, questo sì, questo non posso non dirlo, ha creato delle situazioni un pochino di scompenso. Però ecco nel complesso certamente non si può dire che l'informazione offerta in questi due lunghissimi anni non abbia sicuramente giovato alla comprensione complessiva di un fenomeno complesso qual era appunto, qual è la Covid-19? Professore parliamo un po' di post-Covid, anche questo abbiamo di fronte a uno scenario piuttosto variegato perché è molto molto soggettivo il tipo di conseguenze che sembra, pare e appare, lasci o possa lasciare, però dei riferimenti cominciamo ad averli perché la mancanza che si reitera per molto tempo di concentrazione per esempio, di attenzione, di memoria e quindi adesso parliamo del cervello, poi se lei naturalmente vorrà ci sposteremo da quello. Ma lei ha una teoria, una nota scientifica su questo? Le torna questo conto? Come no, certo che sì, noi ne abbiamo cominciato a parlare già nel 2020 in realtà, venne fuori un primo articolo scientifico del British Medical Journal che insomma è un'autorità in termini di comunicazione scientifica che evidenziava quanto soggetti che avessero avuto un contatto con il nuovo coronavirus, allora le varianti ancora più critiche fossero, come dire, sopravvissuti al contatto con il coronavirus e alla malattia in quanto tale avevano poi cominciato a realizzare una serie di disturbi che appartenevano fondamentalmente all'ambito neurologico e quindi si cominciava a verificare un'astenia, una stanchezza marcata, una facile affaticabilità, turbe di memoria, turbe di concentrazione, sonnolenza di urna, mal di testa, insomma un stordimento continuo, erano i fenomeni che cominciavano a comparire all'interno di questo fenomeno che poi fu ribattezzato long covid. Bene, questo fenomeno del long covid in realtà, ripeto, se ne parla dall'epoca, è stato assimilato inizialmente ad una patologia nota in ambito immunologico, ma non solo, che si chiama sindrome della stanchezza cronica. Alla sindrome della stanchezza cronica poi si è abbinato come collegamento con il long covid un ulteriore tipo di patologia che si chiama sickness behavior, che è una patologia, è una malattia, come dire, dell'apprendimento, che peraltro si conosceva già prima perché pare si realizzasse come sequela di altre infezioni infettive, tipo la mononucleosi per esempio, tipo la borreliosi, tipo il SARS, tipo la SARS, tipo anche la stessa influenza. E quindi si è cominciato a studiare questo tipo di patologia come esito di quel tipo di infezioni e si è riusciti ad individuare che può esistere alla base di questo fenomeno una sorta di predisposizione genetica del soggetto che fa questo tipo di problematica, predisposizione genetica ad avere un'anomala risposta di quello che si chiama sistema immunitario innato, che è una componente importantissima del sistema immunitario, sicché questo sistema immunitario innato in soggetti predisposti dall'evento infettivo, in questo caso la pandemia, l'infezione da SARS-CoV-2, comincia a produrre in maniera totalmente disregolata una serie di mediatori dell'infiammazione, si chiamano citochine, citochine pro-infiammatorie, le quali liberate in grande quantità da questo sistema immunitario slatentizzato dall'infezione, pare che colpiscano in modo particolare il sistema nervoso, l'ambito neurologico. Quindi quel fenomeno diventa un fenomeno collaterale che sembra colpire particolari soggetti predisposti dopo il contatto che quel sistema immunitario predisposto ha avuto con l'agente virale slatentizzato. Professor, mi perdoni, stiamo parlando di una conseguenza a tempo determinato o a tempo indeterminato? Intanto quello che si verifica, quello che si è stabilito è che intanto c'è un tempo determinato perché i primi sembrano che stiano anche uscendo, però è un fenomeno lungo. Si immagini che proprio il British Medical Journal, ma questo è un lavoro di, credo, di pochissimi giorni fa, ha ripubblicato i dati e ci ha detto che hanno studiato qualcosa come circa un 160.000 soggetti che erano stati colpiti precedentemente da Covid e poi erano guariti. Questi 160.000 soggetti, credo 156.000 se ricordo bene, sono stati confrontati con una popolazione amplissima, oltre 5 milioni, di soggetti che invece mai avevano avuto contatto con il coronavirus. Bene, la valutazione che è stata fatta ed è stata pubblicata ci dice, ci dà dei numeri abbastanza importanti, cioè ci dice che esiste nella popolazione dei 156.000 un rischio superiore del 35% rispetto alla popolazione di controllo di incremento delle patologie dei disturbi ansiosi, un 39% dei disturbi depressivi, un 50% di incremento di farmaci antidepressivi, un 40% di rischio superiore nel gruppo dei soggetti presi in esame di insonnie o turbe del sonno e, attenzione, un 39% in più di utilizzo di opioidi finalizzati a neutralizzare questa tipologia, a cercare di controllare questa tipologia di problema. Quindi è un fenomeno sicuramente studiato, non è una fake news, ma è proprio vero così e teniamo conto che le patologie o i disturbi da long covid sono sicuramente prevalentemente di ambito neurologico, pare che siano stati anche individuati alcuni marcatori nel sangue di questi soggetti che possono essere indicativi del fatto se il soggetto si farà o no una post-covid e quindi voglio dire c'è tutta una situazione in forte evoluzione dell'ambito scientifico. Mi veniva in mente una cosa mentre parlava, Putin ha avuto il covid, no? No, no. È un sospetto che ci viene, io ho ancora un minuto, anche se lei ci ha già detto che la convivenza dobbiamo imparare a godercela, tra virgolette. In un minuto mi dice, secondo lei il futuro del covid qual è? Se ne andrà a farti benedire prima o poi o ci dovremo convivere come un'influenza? No, no, convivere credo che ci dovremo convivere, assolutamente. Assolutamente la convivenza è una cosa quasi scontata. Però aggiungo, tanto per concludere, che l'OMS ogni tre mesi realizza una riunione importantissima per stabilire se siamo o no usciti ancora dalla covid-19. L'ultima riunione è stata fatta a gennaio e quella organizzazione ci dice che ancora non siamo usciti. Quindi prudenza e soprattutto cerchiamo di mantenere nei limiti del possibile appunto una convivenza che possa ancora salvaguardarci rispetto a lei. Professore, non le dico per chi fa un mestiere come quello che faccio io, come è brutto, per esempio salutare così un ospite come lei. Non vedo l'ora di poter tornare a stringere la mano a lei e a tutti gli altri ospiti. Grazie professore, noi siamo sempre qui quando dovesse avere il tempo di fare un'altra passeggiata, noi saremo molto felici di fruire della sua presenza. Grazie a voi per l'accoglienza. Buon lavoro professor Minelli, grazie.